sono passati tantissimi di quegli anni e io sto mettendo il piede in un posto bellissimo sono passati 40 anni e mi ricordo ancora i ricordi di quell'asilo mi ricordo le cose che facevo toccare i giocattoli giocare con i miei compagni i miei compagnetti che eravamo molto piccoli sui quattro anni e mi ricordo che le maestre ci volevano tanto bene ma soprattutto le suore ma l'odore è quello che ti fa ricordare e dopo che sono entrato qui dentro una tristezza brutale con un secchio o un castello con le forbici o il coltello donne e uomini da ieri tutti allegri e faccenderi colgono l'uva e la zuccherina e la portano in cantina e la vendemmia è un gran lavoro e mi era un tesoro non ci posso credere le sedie non ci posso credere guardate che cosa ho trovato qui sopra guardate le cose che facevamo guardate come erano piccolini i nostri piattini non ci posso credere ero veramente celesti erano i nostri piatti adesso ci troviamo nella parte più importante dove vi ho vissuto ragazzi il corridoio le aule diamoci un'occhiata grazie 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 grazie